amici del portale del verde buongiorno ben ritrovati sono qui in compagnia di fabio di gioia buongiorno stiamo girando una playlist bellissima dedicata all'orto ed è arrivato il momento fabio di parlare delle rotazioni rotazioni cosa sono queste rotazioni la rotazione è una tecnica culturale che consiste diciamo nel nell'alternare diciamo sullo stesso terreno diciamo delle diverse specie di piante per cui se per esempio quindi in un pezzettino di terreno diciamo c'è stato diciamo coltivato il pomodoro l'anno successivo chiaramente quindi io metterò una pianta diversa quindi vuol dire alternare vari tipi di piante e vari tipi di specie di piante e questo è fondamentale perché perché se io faccio una monocoltura quindi io coltivo sempre pomodoro nello stesso terreno il terreno può andare incontro a quella che si chiama la stanchezza del suolo stanchezza del suolo che può essere dovuta a carenza di minerali attacco di parassiti accumulo di fitotossine quindi si si viene piano piano a creare una situazione che il terreno si stanca quindi si stanca e non produce più quindi facendo diciamo quindi queste rotazioni quindi alternando una cultura diciamo all'altra quindi si riesce a rompere diciamo quindi questa questa fase di monocoltura e quindi a ridare diciamo al suolo quindi quelle caratteristiche fisiche chimiche e biologiche che ha bisogno per mantenersi e quindi per mantenere quella che è la fertilità in questo caso e facciamo un esempio di rotazione una rotazione c'è da dire che ci sono le rotazioni per esempio quando si va a impostare le rotazioni bisogna tener conto di quello che c'era prima cioè della precessione culturale ovviamente ci sono delle precessioni favorevoli e delle precessioni sfavorevoli per esempio dove è stato coltivato per esempio l'insalata si può mettere la melanzana perché si alterna una una specie che ha un apparato radicale in questo caso superficiale con apparato radicale profondo ah questo è già un un modo cioè perciò dove non c'erano radici si va a mettere invece la radice una precessione sfavorevole per esempio la cipolla con la patata perché sono due bulbi sono in questo caso quindi non non va bene quindi alternare due diciamo due due piante che fanno la radice quindi un bulbo che è la cipolla con la patata è un tubero quindi andrebbe bene insomma la patata con l'insalata con l'insalata esatto ok altri tipi di rotazione poi le rotazioni possono essere di vario tipo ci sono le rotazioni continue quindi quando ogni anno quindi si fa una rotazione quindi si fa alternare le piante sullo stesso terreno ci sono le rotazioni discontinue cioè quando si interrompe diciamo la rotazione con il terreno viene lasciato a riposo per un certo numero di anni quindi ci sono poi le rotazioni poi possono essere a seconda degli anni biennali triennali quadriennali quindi si tratta di suddividere il nostro pezzo di terra per esempio in una rotazione biennale in due pezzi e quindi fare alternare per esempio una coltivazione da una parte quindi alternarla dall'altra parte quindi invertirla invertirla la rotazione triennale si divide in in tre in tre in tre pezzi il nostro orto quindi al primo anno la coltivazione si fa nel primo pezzo poi nel secondo e poi nel terzo e si inizia e così la rotazione quadriennale se non la faccio questa rotazione cosa succede fabio come ho detto prima quindi il terreno si impoverisce quindi se io coltivo sempre nello stesso terreno quindi una specie quindi con il tempo quindi il terreno si tende a impoverire delle sostanze nutritive si accumula le parassiti fitotossine quindi il terreno si stanca come si dice quindi produrrà però produrrà poco produrrà poco esatto quindi se vogliamo un orto sempre ben in forma diciamo così dobbiamo fare le rotazioni fare le rotazioni poi sulle rotazioni logicamente da quanto mi sembra di aver capito bisogna anche un po approfondire perché esatto sono veramente anche tante quindi materiale dopo ne trovate sicuramente anche in internet e magari anche attraverso altri altri video come il nostro o anche di altri canali potrete sicuramente approfondire alessandro fabio di gioia le rotazioni che bella parola vi salutano vi invitano a mettere un bel pollice all'insù e iscrivervi al canale se già non l'avete fatto ciao alla prossima